Dopo il brillante esordio stagionale su strada nel classico appuntamento della Coppa Pasqua sul circuito di Floridia, è arrivato un altro weekend di soddisfazioni per il team toscano Giarre. A Villa Francatirena c'è stato il debutto per il 2016 dalla categoria giovanissimi, comprendente bambini e ragazzi che vanno dai 7 ai 12 anni. Nella categoria G1, riservata ai più piccoli, il podio è stato occupato interamente da atleti della squadra gerrese, con la vittoria di Giuseppe Giustolisi seguito da Salvo Sciuto e Alessio Catalfamo. Nella categoria G4, dove a correre sono i ragazzi di 10 anni, da segnalare il secondo posto di Luca Brancato, mentre Marco Brancato è salito sul gradino più basso del podio tra i G6. Bottino quasi pieno anche tra gli esordienti, dove la gara si è decisa allo sprint. La volata è stata vinta da Andrea Marano, mentre i compagni di squadra Carmelo Di Carlo, Marco Torrisi e Alessandro Greco sono giunti al terzo, quarto e sesto posto. Il team toscano ha primeggiato anche tra gli esordienti di primo anno, grazie al trionfo di Andrea Bruno. Gli eccellenti risultati raggiunti in questo inizio di stagione permettono alla squadra di mantenere un lusinghiero secondo posto nella classifica nazionale esordienti a squadre con 13 punti, alle spalle solo dei toscani della ciclistica San Miniato Santa Croce sull'Arno. Il DS Salvo Toscano ha dichiarato tutta la propria soddisfazione per una squadra affiatata, che nonostante il gap esistente con le più attrezzate società del Nord Italia, lotterà fino alla fine per ben figurare in questa speciale classifica.